ciao a tutti sono contenta di vedervi di nuovo oggi vi voglio presentare la stellina una stellina con uncinetto facciamo così se voi vorrete fare una stellina così quindi facciamo insieme seguiteci questo video io faccio questa stellina così vedete alberevo di natale adesso applico così per realizzare la stellina ci serve io ho fatto con cotone cotone gitto uncinetto numero due e mezza forbici per nascondere filo avevo usato un ago grosso quindi dobbiamo fare un cerchi e diciamo amigurumi in cerchio facciamo questo modo mio cerchio ecco alziamo lavoro facciamo un gettato 2 catenella di 2 maglie in cerchio amigurumi una maglia bassa alziamo 2 maglie 1 catenella di 2 maglie un gettato 1 catenella di 2 maglie un gettato 2 maglie facciamo catenella in cerchio facciamo una maglia bassa 2 maglie una maglia bassa in cerchio 2 maglie un gettato 2 maglie una maglia bassa in cerchio 1 2 3 4 ancora una volta 1 2 3 4 ancora una volta un gettato 2 maglie e adesso dobbiamo connettere qui in questa e da in inizio del nostro lavoro stringiamo il nostro cerchio eccolo una mini stellino adesso andiamo lavoro e facciamo in questo mondo sotto catenella di 2 maglie si facciamo 2 maglie basse 2 maglie basse un gettato catenella di 2 maglie in questo agitato facciamo dentro qui guardate qui qui facciamo 2 maglie basse facciamo 2 maglie basse una maglia basse sotto catenella e un una maglia per connettere ecco di nuovo 2 maglie basse un gettato una catenella di 2 maglie dentro questo agitato una maglia 2 maglie scusate è una maglia sotto la catenella e connettere questo agitato un'altra volta sotto questo arco si due maglie basse un gettato catenella di 2 maglie sotto gettato 2 maglie basse una maglia bassa sotto l'arco e connettere il lavoro allora faccio ancora una volta provo a fare piano piano 2 maglie basse un gettato catenella di 2 maglie basse catenella di 2 maglie 2 maglie basse dentro gettato è uno è una maglia bassa sotto questo arco dei 2 catenella di maglie e un'amalia dieconestione e ultimo 2 maglie basse un gettato catenella di 2 maglie 2 maglie dentro agitato è una maglia sotto l'arco e maglia di connessione dobbiamo connettere i nostri due ecco e tagliamo il nostro filo e abbiamo nostra stellina adesso io voglio chiudere qua faccio un modo qui questa un'applicazione si può usare anche per decorare vestito per fare tante cose si può fare con la stellina questa facciamo un bel nodo si può mettere anche sopra l'albero di natale questa stellina se fare di colore bianco sembrano fiocchi di neve e si può mettere sull'albero di natale grazie che siete stati con me vi auguro tante belle cose seguitemi fate like seguite iscrivetevi al mio canale così non perdete nuovi video scusate per mio italiano ma spero si è capito tutto